L'intelligenza artificiale ci permette di guadagnare in mille modi, in questo canale YouTube ne abbiamo affrontati tantissimi e continuiamo ad affrontarli, ok? Quindi iscriviti se vuoi guadagnare online da zero, c'è un'opportunità con l'intelligenza artificiale ChatGPT è gratuito, ti iscrivi, cioè ti registri, hai l'intelligenza artificiale a tua disposizione, puoi fare un sacco di business online vatti a guardare la mia playlist ChatGPT come guadagnare, oggi facciamo un corso completo su come guadagnare con la musica sì, anche se non sei un musicista, non ti preoccupare, farà tutto l'intelligenza artificiale, farà tutto, in questo caso ChatGPT anche ma anche vedremo un tool che ti permette di creare musica, ma in questo corso completo non solo vedremo come creare musica in due secondi con l'intelligenza artificiale, con un tool che si chiama Aiva, ma anche come caricare questa musica nelle piattaforme digitali pazzesco, quindi vedremo proprio passo passo come si fa a mettere la musica su Spotify, quindi noi la creiamo con l'intelligenza la mettiamo su Spotify e guadagniamo, ti spiego anche come guadagnare, ti faccio vedere passo passo come caricare la musica sulle piattaforme quindi puoi guadagnare dallo streaming di Spotify, di Apple Music, di Deezer, tutte le piattaforme di Google Play, ok? e poi ci sarà un altro metodo di guadagno, un'altra piattaforma, ok, dove tu potrai caricare la musica e guadagnare attraverso la loro distribuzione, più che altro si guadagna con il diritto d'autore perché hanno una rete di centri commerciali in tutto il mondo, mandano la musica che tu carichi, che dei loro iscritti quindi tu ti abboni, ti iscrivi a questa piattaforma, carichi la tua musica, loro la trasmettono in questo circuito mondiale in oltre 27 paesi, tutti praticamente riforniti da questa società che manda questa musica nei centri commerciali nei negozi piccoli, grandi, che siano enormi e vieni pagato in base alle riproduzioni e al diritto d'autore guadagni passivi ragazzi, devi solo registrarti e caricare la musica e ti faccio vedere anche come iscriverti a questa piattaforma, di che cosa si tratta quindi ma stai qui con me, staremo insieme per un po', è un corso completo, dettagliato, completamente gratuito ti chiedo soltanto di iscriverti a questo canale perché questa roba non la trovi da nessun'altra parte è gratuita, ok? quindi si tratta di creare musica con l'intelligenza artificiale e caricarla in alcune piattaforme ti farò vedere tutto questo e guadagnare passivamente proprio per chi non ha budget, è tutto gratis, ok? per chi non ha budget, devi soltanto stare lì al computer, creare musica, tanta musica, caricarla perché comunque funziona su grandi numeri, ok? puoi raggiungere anche uno stipendio mensile, part time, ok? un 500, 600, 700 euro, ma più ti impegni puoi arrivare anche a molti più soldi il lavoro da fare è all'inizio, crei musica, la carichi e poi i soldi arrivano io soprattutto nel secondo metodo che ti darò, cioè nel terzo perché adesso vediamo una cosa molto importante che sono tutti i metodi che io faccio io sono editore Soundriff che è quella praticamente piattaforma che vedremo in seguito dove appunto puoi mettere la musica e ottenere guadagni perché loro la trasmettono nel loro circuito io sono editore Soundriff e sono un ufficio stampa adesso ti spiegherò anche come guadagnare facendo promozione per le band perché se non mi conosce io sono Michele Maraglino faccio business online dalla fine del 2016 ho un canale YouTube che si chiama Michele Maraglino Musica con cui ho iniziato a vendermi online, ok? vendo, praticamente ho fatto tutto un percorso sono musicista, cantautore, poi ho messo in piedi, mi sono promosso da solo ho visto che ero bravo, ho iniziato a promuovere le altre band all'inizio erano amici, poi amici di amici quindi mi facevo pagare poi è nata la mia etichetta e poi ho iniziato ad insegnare ai musicisti questo percorso un sacco di corsi che vendo, videocorsi, consulenze nell'altro canale Michele Maraglino Musica e a marzo del 2022 ho deciso di aprire Michele Maraglino Business per condividere la mia esperienza dal lato business tutte le skill che ho acquisito vendendo videocorsi online vendendomi su YouTube, vendendo le mie consulenze le condivido qui gratuitamente, cioè pazzesco iscriviti al canale veramente è l'unico modo che hai per, diciamo, riequilibrare l'universo perché sto dando un sacco di valore guardate tutti gli altri video, iscriviti e commenta vai Michi, continua così, commenta quello che vuoi i commenti mi aiutano tanto a crescere velocemente più velocemente quindi commenta, mi fai un grande favore perché sto condividendo, dando tantissimo valore completamente gratis l'unica cosa che vendo sono le consulenze le vendo senza neanche una landing page semplicemente con YouTube la potenza di YouTube dovrei fare un corso su YouTube e spiegarvi tutte queste cose come riesco a vendere 3-4 consulenze alla settimana da 150 euro cioè ci rendiamo conto e dicendo soltanto che nella descrizione del video c'è la mia mail, contattatemi la gente mi scrive quant'è 4 consulenze sono 600 euro alla settimana di consulenze solo da questo canale YouTube nato per gioco pazzesco figurati se creo un corso cioè YouTube ha tantissimo potenziale per guadagnare online forse dovrei fare un corso su questo comunque ti posso aiutare scrivimi la mail sì scrivimi la mail scrivimi una mail trovi l'indirizzo in descrizione in tutta la descrizione dei miei video ok quindi qui trovi un sacco di materiale se vuoi guadagnare online investire soldi di questo parliamo iscriviti subito a questo canale allora il primo metodo però che ti voglio dire è quello più serio più redditizio ok per guadagnare con la musica i musicisti hanno terribilmente bisogno di promozione non sanno promuoversi anche se io ho sdoganato un po' questa cosa perché sono riuscito a promuovervi da solo grazie all'online e non c'era neanche l'intelligenza artificiale e poi ho iniziato a vendere ok la promozione quindi a guadagnare promuovendo band perché conosco il settore ma adesso con l'intelligenza artificiale lo puoi fare anche tu e questo è il primo metodo che vedremo per guadagnare con la musica diventare un ufficio stampa per i musicisti ok devi trovare band di solito ci sono i siti le webzine online blog musicali basta che fai una ricerca su google e le trovi e lì ogni giorno escono recensioni di band emergenti le puoi contattare e offrire dei pacchetti di promozione con chat GPT tu puoi trovare sia gli indirizzi i contatti di radio playlist e webzine e blog dove mandare la recensione dove mandare diciamo il tuo comunicato stampa puoi sia con chat GPT scrivere un comunicato stampa e inviarlo fa tutto chat GPT ora lo so per chi non è dell'ambiente può essere un po' complicato per questo ti consiglio di prendere il mio corso che si chiama music press GPT ti metto il link in descrizione comunque lo trovi all'indirizzo chat GPT punto michelemaraglino punto com che ti spiega tutto anche se non sei nel settore cioè se non sei nel settore dovresti fare questo corso più approfondito questo è a pagamento perché comunque andremo a vedere c'è bisogno per chi non è dentro il settore c'è bisogno di andare ad approfondire tutto però se tu ti fai quel corso e hai chat GPT 3.5 gratis domani mattina puoi lavorare e ottenere 500 1000 euro 1500 euro a promozione a bende ti spiego anche come trovare le bende come farti pagare e come svolgere il lavoro il lavoro praticamente te lo svolge chat GPT ti scrive il comunicato stampa ti scrive le recensioni puoi mandare le recensioni già pronte alle testate ai blog e poi ti fai pagare mandi il report devi promuovere un singolo devi promuovere un album com'è che ti fai pagare com'è che funziona il lavoro proponi alla band di procurargli un sacco di pubblicazioni sia del comunicato stampa sia delle recensioni sia delle interviste in tanti blog ma tu puoi andare direttamente dai blog e confezionare già grazie a GPT sia il comunicato stampa è ok ma le interviste ma anche le recensioni e poi vai dal cliente dalla band e gli dici questo è il report e gli mandi tutti i link delle pubblicazioni e lui ti paga in realtà ti paga prima è tutto spiegato diciamo che è il metodo più efficiente secondo me più redditizio perché puoi ottenere 1000 1500 euro da ogni band da ogni promozione poi dipende se promuovi un singolo puoi promuovere un singolo per 500 euro puoi promuovere un album per 1000 1500 euro ok però ti segui una band al mese due band al mese sono bei soldi ok è un bello stipendio se fai due band al mese e gli devi promuovere un album diventa interessante ovviamente per chi non è nel settore ragazzi se volete approfondire magari siete appassionati di musica e non avete mai pensato che si potesse guadagnare grazie a Gpt avete tutto avete i contatti e il corso musicpress Gpt vi spiego tutto costa soltanto 97 euro tra un po' lo tolgo perché ci sono delle cose segrete ok un po' borderline per ottenere tante pubblicazioni però vi consiglio andate su chatgpt.michelemaraglino.com chatgpt.michelemaraglino.com prendete il corso e avete con 97 euro soltanto 97 euro avete tutto spiegato passo passo come trovare le band come proporle come proporgli appunto il vostro lavoro come ottenere l'incarico come svolgere il lavoro grazie a chatgpt che fa tutto è tutto spiegato andate in chatgpt.michelemaraglino.com con 97 euro avete il corso base e poi c'è anche la versione premium che vi consiglio se volete potete poi approfondire tutto questo mondo perché potete curare anche i social proporvi come social media manager di musicisti e nella versione premium ci sono altri due corsi dove imparate praticamente a utilizzare TikTok per i musicisti a far crescere i musicisti su TikTok e anche gavetta online che è un altro corso che vi spiega come sfruttare i video verticali per crescere sui social se prendete la versione quindi premium a 197 euro prezzo ridicolo siete in grado di far ottenere avete un lavoro in mano potete proporvi alle band e dirle guarda io mi dai 2000 euro ti faccio per un mese la promozione dei tuoi singoli e anche la comunicazione sui social potete chiedere anche di più c'è mercato le band sono tantissime perché anche loro si sono abbassati i costi all'ingresso per realizzare musica c'è tantissima musica il problema è che va promossa perché metterla così senza promozione non va bene e quindi si crea un'opportunità se voi prendete il corso imparate tutte queste competenze che la cosa migliore è avere delle competenze e poi le potete spendere nel mercato della musica vi spiego tutto nel corso chatgpt.michelemaraglielo.com se volete fare appunto l'ufficio stampa per musicisti può essere un grande diciamo una grande opportunità per guadagnare io lo faccio il mio lavoro e ve lo insegno anche a voi non vi sto insegnando qualcosa che io non faccio è pazzesco tutti i metodi io ho una casa discografica dove pubblico musica e guadagno nelle piattaforme che è il prossimo metodo che vedremo e poi quello ancora dopo la Soundrift io sono editore carico musica di tanti artisti perché prima si lavorava così cioè si lavora ancora così però adesso avete un'opportunità in più senza dovervi sbattere cercare musica fare contratti e quant'altro create direttamente la musica in un click con l'intelligenza artificiale e la caricate vi spiego tutto nei prossimi due blocchi di questo corso in questa prima parte vi volevo appunto presentare questa opportunità cioè una bella opportunità di lavorare nel mondo della musica anche senza competenze promuovendo band e se volete approfondire vi rimando al corso Music Press GPT lo trovate all'indirizzo chatgpt.michelemaraleno.com lo comprate e avete tutto spiegato lì nel dettaglio nella versione premium potete anche promuovervi come social media perché ci sono altri due corsi sono tre corsi completi a 197 euro chatgpt.michelemaraleno.com adesso vediamo invece come creare musica noi con l'intelligenza artificiale caricarla sulle piattaforme e guadagnare dagli streaming dagli streaming di Spotify e di tutte le altre piattaforme e dopo vedremo come caricare musica creare musica e caricarla su Soundriff che è una piattaforma è una società di collecting che però ha un servizio che si chiama in store che ti permette di guadagnare se tu appunto fai un contratto con loro solo per l'in store tutta la musica che carichi loro la distribuiranno però prima la devono accettare ma ti spiego tutto qual è la musica migliore e per ottenere appunto l'accettazione una volta che ti accettano tu non devi fare niente guadagni e semplicemente nell'account vedi dove la tua musica viene trasmessa e quanto guadagni di diritto d'autore ma ti spiego tutto nei prossimi due blocchi iniziamo con le piattaforme streaming quindi creiamo musica la mettiamo su Spotify guadagniamo e dopo vediamo quell'altra tecnica molto interessante per guadagnare attraverso Soundriff ragazzi iscrivetevi al canale perché è veramente un corso completo dettagliato per guadagnare con la musica con l'intelligenza artificiale iscrivetevi al canale e adesso partiamo a bomba con gli altri due blocchi di questo corso nel video di oggi ragazzi vedremo come fare soldi online creando musica da zero senza competenze sfruttando l'intelligenza artificiale e pubblicandola su Spotify gratuitamente in tutte le piattaforme digitali non soltanto Spotify e guadagnare ogni mese le royalties è pazzesco iscrivetevi a questo canale perché questo metodo di guadagno non ve lo insegna nessuno e non sarà soltanto un corso teorico come fanno i miei colleghi che vi dicono allora fai così fai così fanno dei video di intrattenimento no qua vediamo proprio come fare passo passo sono dei veri corsi completi gratuiti veramente vatti anche a vedere il video su come creare un libro con l'intelligenza artificiale pubblicarlo su Amazon e guadagnare ho fatto un corso mentre lo faccio io vi faccio vedere anche i guadagni ve lo metto qui nelle schede iscrivetevi a questo canale c'è tantissimo valore dovremmo essere già in 10.000 iscritti invece siamo 2.300 quindi aiutatemi iscrivetevi tutti prima di andare a bomba sul contenuto di oggi vi dico che il software che utilizzo per creare musica nel video di oggi è un software che in realtà non è free royalties bisogna pagare un abbonamento per avere le royalties a disposizione che vuol dire essere padroni effettivamente della musica che creiamo attraverso lo strumento di intelligenza artificiale in modo da poterla pubblicare nelle piattaforme quando pubblichi su Spotify puoi pubblicare soltanto musica tua se no Spotify ti blocca quel software che vi faccio vedere restate qui perché vi faccio vedere come creare la musica e come pubblicarla con un distributore digitale gratuito praticamente a costo zero quel tool che utilizzo ovviamente per avere praticamente è a pagamento se vuoi avere tu i diritti della musica che hai creato devi praticamente pagare altrimenti la musica creata è della piattaforma è del tool che se non sbaglio è Aiva vi faccio vedere ne approfitto prima di farvi andare a bomba su quel contenuto vi segnalo altri tool che in realtà sono completamente gratuiti in modo che voi potete mettere in piedi questo metodo di guadagno in maniera completamente gratis create in due secondi la musica la pubblicate su Spotify e guadagnate ogni mese io vengo dal modo musicale chi mi conosce lo sa ho un etichetta discografica sono un produttore ho un canale YouTube più grande di questo col mio nome e cognome Basta dove appunto lavoro e vendo infoprodotti e consulenze ai musicisti a cui insegno come fare il mio percorso da musicista sono diventato un produttore discografico ho aperto un etichetta discografica un ufficio stampa chi vuole fare questo percorso io glielo insegno attraverso videocorsi e consulenze in questo canale YouTube condivido tutto quello che ho imparato lato business quindi iscriviti a questo canale se ti interessa il business online guadagnare metodi di guadagno intelligenza artificiale a questo punto parliamo tanto di intelligenza artificiale perché è la svolta quando ho iniziato io mi fomentavo con l'info business creavo le sequenze di mail creavo il prodottino da scaricare la gente mi lasciava la mail partiva la sequenza automatica di mail che gli poi vendeva dei prodotti dei prodottini dei pdf dei corsi e io mi gasavo tantissimo oggi nel 2023 abbiamo l'intelligenza artificiale possiamo fare business in mille modi ne ho parlato tanto in questo canale iscriviti fatti a guardare gli altri video vi faccio vedere futurepedia che è un tool che è un sito che ci raccoglie tutti i software di intelligenza artificiale per argomento comunque stavo dicendo che io vengo dal mondo musicale ho visto gente che pubblica 8-10 canzoni al giorno anche strumentali stupidissime e guadagna tanto siccome noi non siamo musicisti sfruttiamo tutto questo lato business andiamo a creare delle musiche anche strumentali ne pubblichiamo 10-20-30 al giorno e mettiamo su Spotify e guadagniamo delle royalties ora ho messo 500 euro al mese nel titolo ma in realtà il tizio che ho intervistato pubblicando 8 canzoni al giorno strumentali guadagnava sui 2000 euro solo da Spotify dallo streaming delle piattaforme quello però ero musicista e lo faceva anni fa suonando e creando le loro le canzoni adesso noi con l'intelligenza artificiale vi faccio vedere basta dire fammi una canzone di questo genere musicale con questo strumento e questo e lui te lo fa in pochissimo tempo quindi possiamo fare molte più canzoni quindi è un nuovo metodo reale che dalle altre parti non vi insegnano perché ragazzi non hanno gli altri colleghi che stanno su youtube italia business e finanza non hanno l'approccio non hanno le mie conoscenze nell'ambito musicale ma in realtà io fondendo questi due mondi vedo un'opportunità e ve la segnalo anche chi non conosce musica con l'intelligenza artificiale crea un sacco di canzoni le mette su Spotify e resta fino alla fine perché ti faccio vedere proprio come fare tutto questo passo passo è un vero e proprio corso quindi non è che ti sto facendo il video dove ti faccio ti spiego non ti dico niente no io mi sporco le mani faccio e ti faccio vedere quindi iscriviti al canale supportami dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti quanto prima allora Futuripedia pazzesco ragazzi qua ci sono tutti i tool raccolti per argomento audio editing e tutti questi sono tool sono software sono programmi che sfruttano l'intelligenza artificiale anche su art possiamo trovare un sacco di video generator possiamo creare video con l'intelligenza artificiale veramente un'altra idea di business che vi do all'interno di questo video è aprire un canale youtube con l'intelligenza dove parlate dell'intelligenza artificiale potreste per ogni video analizzare un tool di questi pensare a come fare soldi con questi strumenti ok io quando ho aperto questo canale youtube ero pieno di dubbi ma lo apro non lo apro alla fine a parte che non mi sentivo preparato ma poi mi dicevo ma di che cosa parlo gli argomenti sono quelli ci sono una marea di canali youtube che parlano tutti delle stesse cose metodi di guadagno a parte sì la mia esperienza sull'infobusiness ma invece sono contento di averlo fatto perché adesso esplosa l'intelligenza artificiale e ce n'è di roba di materiale per fare video e quindi anche aprire un canale youtube parlare di business online attraverso l'intelligenza artificiale ragazzi vi fa guadagnare avete visto quanto ho fatto il primo mese con questo canale youtube e vi anticipo che il febbraio raddoppierò quella cifra quindi voglio dire si può guadagnare tantissimo allora voglio andare a praticamente SEO cioè c'è di tutto social media assistant possiamo vedere tutti i tool e applicarli a business apro la mia agenzia di social media marketing social media assistant e lo faccio attraverso questi tool mi faccio aiutare dall'intelligenza artificiale voglio ottimizzare la SEO o scrivere articoli con la SEO boom vado nella sezione SEO me li guardo tutti tra l'altro questo sito Futuripedia fa anche delle recensioni di questi siti e vi dà anche un suo parere pazzesco c'è per ogni argomento vendite no vabbè io mi sento male vabbè ve lo dico sempre che mi sento male andiamo su live assist andiamo su music ecco vi voglio far vedere un tool completamente gratuito dove le royalties sono vostre prima di lasciarvi al corso perché quel tool che comunque vi consiglio perché è uno dei migliori Aiva però è a pagamento se non volete proprio spendere niente potremmo andare su Soundrove eccolo qui andiamo su visit praticamente come potete vedere è royalty free music quindi lo fate fate la vostra canzone ed è vostra la potete pubblicare nelle piattaforme senza avere problemi quindi su Soundrove punto io andiamo su create music e gli dobbiamo soltanto dire un po' di cose allora abbiamo detto tre minuti la durata facciamo due minuti facciamo normal facciamo affamato il mood facciamo il genere pop il tema facciamo vabbè è andato poi lo modifichiamo dopo lui crea tutta una serie non solo una più tracce gli diciamo il genere tutte queste altre cose il mood il genere il tema la lunghezza il tempo e anche gli strumenti che vogliamo adesso vi faccio vedere tutto vedete qui possiamo modificare gli strumenti il tempo normal la lunghezza qui il tema il genere il mood e selezionare quello che vogliamo in questo caso noi abbiamo una canzone pop di genere pop mettiamo il mood dark mettiamo il tema corporate la lunghezza va bene il tempo va bene e tutti gli strumenti vediamo che cosa ci crea canzoni di due minuti premiamo play ma ragazzi cioè possiamo creare delle canzoni anche in ottica playlist per chi fa allenamento quindi dare il titolo della canzone musica per sport musica per sport 1 musica per sport 2 possiamo farle anche più lunghe 5 minuti la gente guarda che bella canzone che ha fatto quando la vogliamo la scarichiamo e poi andiamo su root note il distributore che utilizzo che è gratuito no è stupendo carichiamo gratuitamente abbiamo la nostra musica ogni mese il distributore ci paga adesso vi lascio al video in cui poi vi faccio vedere anche tutto il procedimento come fare vi faccio vedere anche aiva e poi root note appunto come proprio passo passo come una volta che abbiamo scaricato tutta la musica che vogliamo guardate quante canzoni ci ha fatto in pochissimo tempo guardate io mi sento male possiamo scegliere qualsiasi divertirci con qualsiasi incastro tra mood genere tema lunghezza e creare la nostra canzone 8 canzoni ci mettiamo pochissimo veramente possiamo fare 120 canzoni al giorno con un paio d'ore di lavoro al giorno abbiamo creato la nostra libreria di canzoni ovviamente all'inizio non guadagneremo ma poi piano piano andando di massa di numeri e non di qualità però la musica è anche carina andremo a ad ottenere degli ascolti quindi adesso vi lascio a bomba con il corso dove vi spiego proprio come fare tutto questo iscriviti a questo canale perché veramente contenuti come questi sono incredibili e fammi sapere nei commenti cosa ne pensi ti aspetto se ti ho fatto esplodere il cervello con questo soundro e anche con praticamente futuripedia scrivilo nei commenti adesso Michele mi hai fatto esplodere il cervello ci vediamo adesso nel corso ragazzi l'intelligenza artificiale è arrivata anche nella musica in questo video incredibile vi farò vedere come creare delle canzoni senza conoscere nulla di musica vedremo proprio come guadagnare dei soldi online grazie a della musica creata dalle intelligenze artificiali dall'intelligenza artificiale creeremo anche la copertina e poi vi farò vedere un sito che permette di pubblicare le canzoni su spotify in maniera completamente gratuita e poi vi gira i guadagni quindi anche se non sapete nulla di musica con i siti che vedremo oggi in questo video in modo molto semplice possiamo creare le nostre canzoni e caricarle su spotify ne possiamo caricare quante ne vogliamo e vedere quanto guadagniamo in base agli ascolti ma possiamo fare tutto questo in maniera completamente gratuita quindi è gratis la creazione della musica è gratis anche la copertina la faremo con l'intelligenza artificiale ed è gratis anche la piattaforma per pubblicare la musica e ci girerà tipo l'85% dei guadagni non costa nulla però trattiene una percentuale ma entriamo a bomba sull'argomento ci trasferiamo sul mio computer vediamo il primo sito che si chiama aiva aiva punto a i io mi sono già loggato e la piattaforma si presenta così dobbiamo semplicemente scegliere il genere musicale ok e praticamente lui ci creerà ci creerà la musica anche in base a delle cose che possiamo a dei valori che possiamo selezionare ma anche in maniera molto semplice io voglio creare un gruppo musicale in questo video i melancolic ok si chiameranno che fanno melancolic pop come potete vedere è molto semplice basta cliccare su create possiamo scegliere appunto quante tracce creare allora clicchiamo su create vedete facciamo che i signature possiamo scegliere anche le note mettiamo anche in quali note la durata mettiamo quella più lunga i 3 minuti mettiamo facciamo una composizione 5 canzoni pubblichiamo un EP pazzesco di musica melancolici melancolic pop il genere musicale vediamo ora l'intelligenza artificiale creerà queste composizioni a cui noi daremo un titolo le scaricheremo le pubblicheremo praticamente su Spotify guadagneremo la musica è originale non c'è nessun problema abbiamo visto nell'altro video abbiamo creato un libro e l'abbiamo pubblicato su Amazon senza nessun problema se vi siete persi i video ve li metto nelle schede allo stesso modo possiamo creare musica e pubblicarla su Spotify senza nessun problema di copyright perché è roba nuova creata dall'intelligenza artificiale quindi pazzesco ragazzi iscrivetevi al canale su questo canale stiamo veramente vedendo cose veramente nuove che ci permettono di guadagnare partendo da zero quindi se ti interessa il business online iscriviti al canale io sono Michele Maraglino per chi non mi conosce faccio business online dalla fine del 2016 e in questo canale youtube condivido la mia esperienza quindi se ti interessa guadagnare online creare il tuo business online iscriviti a questo canale allora ha creato un po' di composizioni sentiamo un po' il risultato a me questo genere piace c'è anche la voce ma è pazzesco questo è il singolo no vabbè i melancolic ragazzi allora qui c'è l'esperimento che avevo fatto io un brano edm sono praticamente queste tutte in f minore ovviamente potete fare anche diverse tonalità ok quindi vedete questo invece è un altro sito per creare la copertina gli diamo semplicemente un comando e lui crea la copertina si chiama beta.dreamstudio.ai questo è il sito ok beta.dreamstudio.ai qui ho scritto un cavallo impazzito sulla montagna di fiori ed è uscito questo un cavallo impazzito psichedelico ora per i melancolic che cosa facciamo se io scrivo melancolic pop vediamo che cosa mi esce pazzesco vabbè la copertina la possiamo anche creare con canva mamma mia ragazzi mi sento male mi sento male mi piace un sacco però allora c'è una regola no vabbè mi piace un sacco allora la scarichiamo questa la copertina è bellissima la scarichiamo andiamo su canva carichiamo l'immagine quando pubblichiamo praticamente sui distributori digitali ci serve che sul sul praticamente sulla copertina ci sia il nome del gruppo il nome dell'album e nessun'altra scritta allora noi abbiamo questa meravigliosa copertina è pazzesca eccola possiamo ingrandire melancolic ok mamma mia ragazzi è un discone ok questa è la nostra copertina la scarichiamo download e ce l'abbiamo la scarichiamo in jpng ok e ce l'abbiamo ora andiamo sul nostro distributore digitale ok rootnote.com è il distributore digitale che utilizzeremo ragazzi vi loggate vi registrate avete il vostro account in descrizione trovate il link per entrare in rootnote ok adesso mi logggo dopodichè dobbiamo scaricare le nostre canzoni che chiameremo semplicemente 1,2,3,4,5 in maniera molto semplice scarichiamo l'MP3 sentite che bomba download MP3 download MP3 ah ok solo tre tracce per il piano gratuito va bene solo tre tracce pubblichiamo un EP di tre canzoni quindi ho scaricato le tracce le tre tracce per l'EP del disco dei melancolic omonimo vado su rootnote vado su distribuzione crea una nuova release le ho nominate due tre e quattro le canzoni release titolo melancolic creiamo una release allora la copertina deve essere 3000 pixel per 3000 pixel ragazzi ora non so se da Canva me l'ha presa bene allora mettiamo la jpeg 3000 per 3000 pixel ok mamma mia ragazzi che copertina salva e continua pazzesco adesso facciamo album dettagli compiliamo ma è stupendo linguaggio english melancolic compilation album no artista primario melanc melanc melancolic ok nessuno di questi lui ti dice ma è una nuova pubblicazione di questi artisti noi facciamo nessuno di quest'artista ok genere alternativo 2022 scriviamo qui melancolic il copyright tutto autoprodotto dobbiamo mettere melancolic records nell'etichetta originale release oggi oggi 20 settembre ok non ci sono espliciti contenuti salva e continua vedete quanto è semplice con questo distributore che poi è gratuito ci distribuisce in tutte le piattaforme e noi possiamo guadagnare andiamo a caricare gli audio vediamo se gli mp3 allora la traccia si chiama 2 choose file prendiamo 2 vediamo se va bene l'mp3 che ci da no non ce lo da dobbiamo andare su online convertitore online convertitore mp3 ragazzi ok dobbiamo prendere questo qui e dobbiamo praticamente creare diciamo il miglior vedete la miglior qualità di mp3 quindi convertiamo mp3 in mp3 apriamo il file facciamo 2 le facciamo tutte le selezioniamo tutte le canzoni ok e mettiamo la migliore qualità ok questa striscia la portiamo a 320 kbyte ok dopodichè facciamo converti lui ci andrà a creare questo è un convertitore gratuito online dopodichè lo scarichiamo e abbiamo le nostre i nostri mp3 quindi vi consiglio magari dall'intelligenza artificiale scaricatelo in wave e poi convertitelo da wave ad mp3 in questo modo quindi adesso riproviamo con gli audio corretti 2 guardate che adesso funziona qui facciamo ok qui puoi chiudere guardate che adesso funziona vedete 100% aggiungiamo una traccia la traccia si intitola 3 ho messo questi titoli ma possiamo mettere i titoli che vogliamo ok aggiungiamo una traccia 4 questo è l'epi dei melancolic band pazzesca ragazzi ok fai salva e continua abbiamo caricato le nostre 3 canzoni su rootnote che è il distributore ragazzi rootnote.com in descrizione trovate il link vi registrate potete pubblicare tutte le canzoni che volete lui ci dai gli src va bene track name number one ok va bene va bene salviamo salviamo e andiamo avanti cosa ci manca adesso ci manca semplicemente la distribuzione selezioniamo tutte le piattaforme mettiamo anche youtube guadagniamo anche su youtube poi ovviamente dovremo promuovere la nostra musica però su spotify se voi andate a pubblicare tantissime canzoni di un progetto e pubblicate canzoni ogni giorno bene spotify vi consiglierà vi farà diciamo perché diciamo che spotify apprezza spotify apprezza non so cosa è successo spotify apprezza diciamo contenuti pubblicati tanti contenuti pubblicati se vede che è un profilo a tanti contenuti lo spinge maggiormente quindi si attivano diciamo gli algoritmi ok I'm finished non so cosa era successo comunque abbiamo salvato e abbiamo continuato forse c'era un problema col codice src ce ne ha assegnati altri ma guardate che bello si sta delineando alternative melancolic records copyrights di melancolic copertina stupenda e adesso andiamo a distribuire a pubblicare la nostra musica e poi iniziare a guadagnare attraverso rootnote poi possiamo vedere quanto abbiamo guadagnato e rootnote poi quando ci registriamo mettiamo il nostro codice il nostro account paypal e lui ci dà praticamente i soldi ogni mese selezioniamo tutti gli store vedete c'è di tutto iTunes, Apple Music Amazon, Spotify YouTube Music Deezer ci sono tutte le piattaforme in tutto il mondo YouTube in tutti i territori e facciamo salva e continua a questo punto ci chiede vuoi pubblicarlo con l'account gratuito quindi non paghi niente e hai l'85% delle royalties oppure a quello a pagamento tipo paghi 10 euro e hai il 100% delle royalties noi non vogliamo proprio spendere niente per il nostro business e facciamo distribuzione free confermiamo e il gioco è fatto tempo una decina di giorni e l'album è nelle piattaforme abbiamo appena pubblicato un album senza sapere nulla di musica creando le canzoni con l'intelligenza artificiale e anche la copertina e possiamo pubblicare tutta la musica che vogliamo ci possiamo sbizzarrire con questo software è incredibile ragazzi ok ho cliccato ah sì devo ceccare che cos'altro devo fare è tutto completo ok la musica è ora nella libreria sarà rilasciata abbiamo fatto ragazzi bomba abbiamo pubblicato un disco nel tempo di un video su youtube è assurdo non abbiamo suonato nessuno strumento nessun input umano fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate andate subito a creare le vostre canzoni pubblicatele tantissime su spotify e vedete quanto ho riuscito a guadagnare fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se questi video vi ispirano vi chiedo di iscrivervi al canale per supportare la mia attività iscrivetevi attivate la campanella commentate e se pubblicate dischi poi vi mettete i link nei commenti io vi aspetto nei commenti ragazzi oggi vediamo un metodo interessantissimo per guadagnare online completamente da zero senza competenze sfruttando due piattaforme una di intelligenza artificiale che serve per produrre musica e l'altra è una piattaforma che andremo ad utilizzare per vendere questa musica ma non caricheremo noi la musica e poi c'è della gente che la compra no sarà la piattaforma che distribuirà la nostra musica in avete presente le canzoni che si sentono nei centri commerciali nei negozi bene quella musica che viene trasmessa spesso proviene da questa piattaforma che appunto la distribuisce e raccoglie anche le royalties parliamo di diritto d'autore noi non venderemo la nostra musica a qualcuno possiamo sì altre forme di guadagno attraverso l'intelligenza artificiale può essere appunto creare della musica e venderla in piattaforme che ci permettono di caricare la musica e io vi consiglio di fare musica per video visto che ci sono praticamente un sacco di piattaforme che vendono musica per video e quindi gli autori stessi possono caricare qui non andremo a fare una cosa del genere se vi interessa anche questo scrivetemelo nei commenti così faccio un video ma qui andremo a creare la musica e caricarla in una piattaforma che poi la trasmetterà nei centri commerciali perché ha una rete di centri commerciali affiliati diciamo tra virgolette ora la sto semplificando per non entrare nel dettaglio del mondo musicale perché non è questa la sede che ci interessa non in questo canale youtube ci interessa la musica ma il business vi basta sapere che ha tutta una serie di centri commerciali negozi in tutto il mondo rifornisce di musica e quindi questi negozi hanno un contratto con questa piattaforma che è una vera e propria società di collecting tra virgolette non vi interessa sapere cosa significa se non lo sapete ha dei contratti che tutti questi centri commerciali pagano è una parte di quello che pagano in base a chi viene trasmesso una percentuale viene girata agli autori della musica quindi noi non dobbiamo fare niente di difficile soltanto creare in due click la musica con una piattaforma che abbiamo già visto in questo canale youtube che è proprio Aiva e poi vi faccio vedere dove la dovete caricare potete crearne una marea la caricate e dovete solo aspettare i guadagni passivi c'è una roba che in un pomeriggio potreste creare una marea di canzoni vi registrate sulla piattaforma che poi vedremo qual è e il gioco è fatto aspettate soltanto i soldi questo è diciamo il bello dell'intelligenza artificiale applicata alle competenze alla conoscenza di chi vive in un determinato settore se non mi conosci io sono Michele Maraglino vengo proprio dalla musica un altro canale youtube che si chiama Michele Maraglino musica appunto dove lavoro ok sono partito come un cantautore poi ho aperto la mia casa discografica poi ho aperto il mio ufficio stampa e poi ho iniziato a spiegare il mio percorso ai musicisti che volevano fare il mio stesso percorso quindi chi si voleva promuovere da solo chi voleva mettere in piedi la propria realtà discografica o ufficio stampa e lavorare nella musica e quindi ho acquisito tutta una serie di competenze perché ho aperto un canale youtube ho iniziato a fare video ho iniziato a vendere infoprodotti consulenze videocorsi per dirla in modo semplice e ho imparato tutta una serie di competenze sul marketing online sulla vendita online su youtube e in questo canale Michele Maraglino business condivido gratuitamente è pazzesco quindi iscrivetevi al canale ragazzi se vi interessa guadagnare online fare più soldi guadagni passivi perché di questo parliamo iscriviti al canale mi fai un grande aiuto perché in questo video veramente dispenserò tantissimo valore e anzi lasciami anche un commento scrivendo Michi solo tu hai queste chicche ecco scrivilo adesso mi aiuti ragazzi mi aiutate tantissimo ogni volta che vi chiedo e vi ringrazio ogni volta che vi chiedo un commento voi lo fate ed effettivamente poi c'è un bel pump di iscritti nel canale quindi io vi ringrazio Michi ci mancava soltanto questa chicca scrivilo adesso e partiamo a bomba vi faccio vedere una cosa che nessuno veramente là fuori vi dice tutti i miei colleghi che fanno video su come guadagnare online con l'intelligenza artificiale questa roba non la sanno perché non vengono da quel mondo ok quindi un altro apro una parentesi quando tu vuoi metterti su youtube vuoi metterci la faccia vuoi crescere e fare video bene parla di te tu sei unico c'è qualcosa che gli altri non hanno non andare a fare video fotocopia perché credi che quella roba lì vada funzioni no devi trovare la tua chiave di unicità e l'unicità la trovi in te stesso tu sei unico il tuo bagaglio culturale le tue esperienze il tuo bagaglio di esperienze quello che hai imparato quello che sai quello in cui credi le cose che ti piacciono e quello che devi trasmettere così il tuo canale crescerà questa è una parentesi che chiudo per tutti quelli che vogliono fare anche youtube ma adesso fiondiamoci a bomba il software che di scusate mi sono troppo carico a palla commentate anche solo perché sono carico il software che utilizzeremo è AIVA ok piattaforma che ci fa creare musica di sottofondo in tre secondi proprio musica strumentale ed è quella che ci serve perché è la musica che preferisce la piattaforma che poi andremo ad utilizzare per venderla che però ripeto non dobbiamo venderla dobbiamo semplicemente caricarla e poi pensare alla piattaforma a distribuirla nel suo circuito in tutto il mondo ok è una piattaforma mondiale quindi faremo musica strumentale e poi guadagneremo ogni mese se produciamo tantissima musica possiamo arrivare facilmente anche a centinaia di euro ogni singolo mese in realtà la piattaforma paga a trimestre ok se non erro a quadrimestre non mi ricordo io ho questo è pessimo perché io ho una casa sono un editore tramite questa piattaforma ho degli artisti che mi generano guadagni non mi ricordo se i guadagni no quadrimestre il primo quadrimestre sono tre quadrimestre quindi paga ogni quattro mesi ok ma procediamo con ordine andiamo su aiva clicchiamo ok aiva credo sia aiva.ai ok vi registrate vi logate è molto semplice dopodiché clicchiamo qui su crea traccia molto semplice possiamo scegliere i nostri fantastici generi musicali ok io consiglierei un po' di folk rock per esempio ok mettiamo numero di composizione possiamo farne anche quattro e basta finito ok ci sta creando le composizioni ovviamente quando creiamo possiamo editare la durata delle canzoni ecco questo non l'ho fatto e quindi possiamo dire quanti minuti e ovviamente dobbiamo fare l'abbonamento l'unica spesa che abbiamo l'altra piattaforma è gratuita qui se vogliamo essere proprietari delle nostre creazioni e quindi poterle utilizzare e quindi utilizzare e poter vendere i diritti tra virgolette ora per semplificarla dobbiamo fare l'abbonamento adesso vediamo qual è sentiamo la composizione ok andiamo a fare un'altra traccia magari qua ci sono una marea di generi io posso cercare pop eccolo qua pop emotional pop ok facciamo create emotional pop numero di composizioni la durata facciamo il ora con l'abbonamento che ho io tre minuti cioè credo di avere quello gratuito se non erro però possiamo arrivare fino a 5 minuti 30 canzone proviamo una traccia di pop emozionale per esempio che sta creando qui in basso e dopo di che possiamo scaricare la traccia ci sono tutti i generi magari fate anche può essere utile musica comunque allegra quindi pop emozionale potete fare jazz rock qualsiasi cosa tanto comunque la andrà a creare in maniera strumentale perché non c'è voce non è una canzone ed è perfetto per poi essere musica di sottofondo negli esercizi commerciali ok nei centri commerciali nei negozi loro riforniscono tutta una serie di attività commerciali ok dove c'è della musica e praticamente in tutto il mondo e quindi c'è la possibilità realmente di far fruttare la propria musica mettiamo play non so considerate che ok non so se si è sentito comunque considerate che è musica che poi è messa ad un volume basso serve solo da sottofondo per gli esercizi commerciali comunque andate su aiva.ei e il gioco è fatto ovviamente andiamo a vedere gli abbonamenti billing qui per avere praticamente tutti i diritti a disposizione bisogna fare il vedete il copyright il pagamento pro 49 euro al mese è l'unica spesa per questo business dopodiché create le vostre canzoni fino a 5 minuti e mezzo di durata e poi quando le avete visto in un click le abbiamo create in un click dopodiché andiamo su soundriff.com ragazzi soundriff.com è una società di collecting è la società di collecting che ha fatto concorrenza alla CIA che ha fatto cadere il monopolio della CIA è gratuita ci dobbiamo soltanto registrare adesso quando praticamente ci si registra la piattaforma ti chiede se vuoi utilizzare la tua musica se vuoi utilizzare soundriff per la tua musica come società di collecting che cosa fa una società di collecting gestisce la musica degli autori quindi ogni volta controllano ogni volta che una canzone viene suonata in un concerto ogni volta che una canzone viene suonata in radio in tv loro raccolgono i diritti si fanno pagare poi girano la percentuale all'autore i cosiddetti diritti d'autore però loro hanno anche questo in store se noi infatti scorriamo attenzione eccolo qua dopo fonomeccanico c'è in store entra nei negozi di 27 paesi diversi basta una canzone quindi quando ci andiamo ad iscrivere dobbiamo selezionare che ci stiamo iscrivendo per in store ok è semplicissimo quindi ci registriamo su sounddrift.com come autori selezioniamo in store e carichiamo le nostre canzoni che abbiamo creato con l'intelligenza artificiale però mi raccomando fate l'abbonamento 49 euro al mese le caricate qui nell'in store e il gioco è fatto sono loro che già hanno una catena tantissimi praticamente centri commerciali in tutto il mondo in 27 paesi e quindi c'è bisogno di tantissima musica e Aiva crea della musica super ottima molto interessante e ovviamente la caricate su sounddrift e poi non dovete fare altro che aspettare la piattaforma ha tutto un sistema che vi mostra in temporale dove la vostra musica viene passata e dovete solo aspettare i guadagni le rendite dovete solo creare tantissima musica e caricarla su sounddrift è praticamente a costo zero soltanto l'abbonamento per avere i diritti e poi utilizzate sounddrift che ha già una sua catena proprio ha degli accordi con negozi centri commerciali grandi piccoli medi negozietti tutte queste attività commerciali che hanno bisogno di musica musica magari che non non pagano tanto voglio dire autori emergenti indipendenti magari ogni ogni paese ha la sua sia queste società di collecting che chiedono un sacco di soldi sounddrift offre una convenienza nel prezzo e paga direttamente gli artisti e questa cosa non ce l'ha nessun'altra almeno in Italia la CIA non la fa questa cosa cioè non è soltanto un controllore ma in realtà ha anche una sua catena di distribuzione ed è una figata e con l'intelligenza artificiale possiamo creare musica andare su sounddrift.com registrarci al servizio in store te lo chiedi all'inizio tu selezioni in store carichi la musica e aspetti i soldi meglio di così fatemi sapere che cosa ne pensate commentate se questo video vi è piaciuto scrivete qualsiasi cosa mi aiutate a supportare questo canale a farmi crescere io vi ringrazio vi aspetto nei commenti iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere i prossimi video e lasciate un bel commento noi ci vediamo ad un prossimo video ciao